Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente tragico e devastante per la famiglia Martini Bizzarro che dopo tanti anni hanno sofferto in silenzio la perdita di alcuni cari e sono rimasti inattivi per tanti anni. Ecco quello che resta del loro circo. Allora il mio appello è un appello che faccio al mondo circense, a tutti i circensi che naturalmente hanno un senso civico, un cuore. Ecco cerchiamo di aiutare queste persone. Abbiamo bisogno di un tendone, qualcuno che ci dia un tendone per ricominciare da caldo perché non si può fermare così. Credo che sia ingiusto anche per il dolore e il dispiacere che queste persone stanno provando. Quindi il mio appello è a tutti i circensi, a tutte quelle persone di buonsenso e di cuore. Adesso è il momento di essere solidali verso queste persone. Io ce l'ho messa tutte, ho fatto quello che ho potuto. Ho visto nei loro occhi la gioia per aver riaperto il loro circo. Ho visto la felicità, ho visto tante cose. Ecco quello che resta. Tanta amarezza, tanto dispiacere. E tanta fatica, posso assicurare. Date una mano a queste persone, se siete veramente uomini, persone degne di essere uomini.